Che cos'è sull'onda della solidarietà? Praticamente è un'iniziativa che serve a sensibilizzare militari e non in tutte le capitenerie di porto dell'Italia. L'ultima, tre anni fa, pare che abbia portato veramente molte tipizzazioni, che poi sono gli iscritti che vanno nel registro che contiene tutti gli eventuali donatori di midollo osseo. Motivo per cui avere un numero così elevato, magari in un periodo ristretto, per ADMO è molto importante. Raccontiamo perché è importante tipizzarsi, perché poi non tutti coloro che si tipizzano e quindi entrano in questo registro hanno la possibilità poi effettivamente di donare. Certo, intanto la cosa importante è che ci sia più gente possibile in questo registro, perché solo così nel momento in cui c'è l'ammalato di leucemia, di mieloma, linfome e altre malattie del sangue, quindi tutto è stato provato anche all'interno della famiglia dove la possibilità di trovare un compatibile è di 1 su 4, mentre la possibilità di trovare un compatibile all'esterno della famiglia è di 1 su 100.000, quindi la possibilità di salvarsi è veramente molto limitata. Pertanto il registro deve essere ricco, ricco, ricco di persone disposte a donare il midollo osseo. Quante sono le persone iscritte nel registro della Puglia e quante in realtà invece ce ne dovrebbero essere? Allora gli iscritti sono 19.000, gli attivi, perché poi purtroppo il registro italiano è un po' vecchio in questo, cioè si sono tipizzate tante persone che poi man mano arrivano ai 55 anni, ci si può tipizzare da 18 a 35 anni e si può donare fino a 55 anni se si è in stato di buona salute. Molti sono arrivati a 55 anni e pertanto escono dal registro, quindi gli iscritti sono 19.000, ma gli attivi, cioè quelli che realmente potrebbero ancora donare, sono intorno ai 15-16.000. Ancora un po' pochini perché in realtà ne dovremmo avere almeno 20.000 in Puglia. Però l'anno scorso non è andata male, abbiamo tipizzato 1.077 persone, ragazzi, adesso stiamo cercando di ringiovanire questo registro. In Puglia ci sono state 82 donazioni, qualche altra che sta avvenendo, e quindi forse arriviamo a 85, quindi significa che 85 pugliesi hanno salvato la vita, a volte in Puglia ma tante volte in tutto il mondo. Può essere Olanda, Spagna, quindi noi abbiamo spesso testimonianze di questi ragazzi che hanno donato, che ne parlano in maniera molto entusiasta, ve lo dire, perché veramente è un atto bellissimo. Grazie.